Oh, interessante. Cos'è questa scatola e cosa c'è dentro? Sì, ancora meglio. Decorazione per l'auto? Sembra interessante. E questo pezzo va qui. E ho il rosa qua, con dei cuoricini. Che bello! La mia macchina sarà tutta quanta rosa. Oh, guardate che fiocco! E io lo vedrò qua. E ovviamente le ciglia. E le labbra rosse. Dai, fai l'occhiolino. Oh, che bello che è. Ma cosa mi prende in giro? La mia macchina deve essere meglio. Oh, sì, lo so. Adesso ordino tutto quanto. Grazie, ma mi ha fatto prendere paura. Ok, ok. È tutto il necessario. Ok, prendiamo sì il nero. Ok, e adesso cominciamo a dipingere la mia macchina. Sarà tutto quanto nera. Oh, così, con i teschi. Sì, queste bandiere sono ottime. Bello. Ok, i teschi qua. E ovviamente la benda sull'occhio, sì. Che bel rossetto. Cosa? Ma hai decorato la tua macchina? Ma cosa mi ripete? Eh no, è il mio design. Così? Adesso ci farò vedere. Ok, i miei tappetini sono così morbidi. Ho deciso di decorare la macchina anche dentro. Oh, che bello che è. Oh, così. Ecco le orecchie, sì. Che bello. È tutto quanto rosa. Ecco, mettiamo anche qua. Guardate, ragazzi. Ok, io ho dei fiorellini. E poi sì, i dadi rosa. È ottimo. E ti piace, unicorda? Tu sarai qui. Oh, che bello. Ma come ho decorato bene tutto quanto. La mia macchina è perfetta adesso. Oh, che ridere. Cosa? No, ha decorato anche all'interno. Dai, vinti in silenzio. Oh, ho qualcosa qui. Ok, la panziera da pirati qui. E anche qua. Che bello. E a posto del volante metto questo. Qui metto la nave. Dei teschi. E anche qui sugli spicchietti. Ed ecco il mio passaggero. Sì, sì, mi ha detto così. E lei? Aspetta. Adesso richiamo. Mike? Ma chi è che è seduto là? È una schiena tra aiuto. Che codarda. Batti cinque. Oh, che schifo. Oh, è divertente. Oh, cosa ci ha versato la lontella addosso? Oh, che ridere. Cosa? No, ma è scarico. Oh, non posso guardare il video. Oh, io ho un'idea. Ok, le corde qua. E sopra metto l'iPad. Un'idea. Ehm, è vero, è un cinema. Oh, le potenzine. No, che ridere. Un altro selfie. È così? Vediamo. Oh, che bello che sono. Cosa sta facendo Mike? Cosa? Ah, il cinema là. Oh, che bello. Ehm, io ho un'idea. Ehm, devo andare in cosa. Ed ecco la mia tv. Io la metto qua. Ah, dai, vieni qui. Ecco, ci ho trovato un posto. Eh, occhio. Eh, aspetta. Devo si organizzare qui. Sì, dei divani. Devo chiamarle amiche. Ragazzi, vi aspetto. Guardate la mia porta. Ciao. Guardate che bello. Sì, è questo bello. Cosa? Oddio, ma cosa stanno facendo là? Ma guarda nel cinema. No. Ma li farò vedere. Ok, devo esercitarmi un po'. Ecco. E adesso? Metto il tappettino e posso cominciare. Uno, due, tre. Due, uno, due. Ciao, ragazze. Adesso felicitervi. Facciamo insieme. Uno, due. Dai, ripetiamo. Cos'è? Ma cosa stanno facendo l'allenamento? Basta mangiare. Ok. Questa scatola è molto pesante perché ho il necessario. Ok. E adesso le metto qui. Bene. E anche questa là. Ehi, ragazzi. Ciao a tutti. Come va? Beh, è ora di allenarsi. Così. Dai, su. Forza. Doi, ancora. Ma sei stanca. Dai, no, non fermarti. Dove stai guardando? Ancora una volta. Mi ha fatto occhialino. Ciao. 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 Mi ha fatto occhialina. Ciao. Che? Cos'hai? No, sono di nuovo da sola. Sono così pesanti. Ma la ragazza la ragazza è mia, non è giusta. non sono da sola. Ehi, mia, dai, su, non piangere. Dai, su, vieni con me. Facciamo le mette insieme, dai. Sì, va bene. Ah, sei bravo. Auto rosa contro l'auto nera. Cos'è? Cos'è facendo, vita? Hai intenzione di decorare l'auto? Però l'auto più morbida e rosa del mondo. Tutta rosa. Sì, ecco, incolorò tutto quanto. È bellissima. Ho un'auto perfetta. Nessun'altro l'ha fatta. Ma non è bellissima. Ah, se sono in visione. Cosa? Guarda. Eh, cosa? Ma adesso le la faccio vedere io. Io ho un'idea. Non avrò sicuramente bisogno di questa. Il vostro ordine. E sei stato così veloce, Kevin. Grazie. Oh, che scatola grande. La vernice nera, proprio quello che mi serviva. E ora mostrerò a questa ragazza cosa vuol dire un'auto. Veramente bello. E vai. Fatto. Perfetta. E il tocco finale? Eh, sì. Ottimo lavoro. E cosa abbiamo adesso? Sì, abbiamo... Sì, ma abbiamo questo. Dobbiamo aggiungerlo qui. Un po' di colla. Bene, bene. E anche qua. Qua. Sì. Ottimo. Ho decorato la mia macchina. Cos'è? Ecco. Ma che schifo. Non mi arrendo così facilmente. Ho decorato l'esterno. E ora devo abbellirmi l'interno dell'auto. Ok, così. I sedili in bottiglia sono un amore. Ora aggiungiamo un po' di dettagli. Ok. Qui. Sì. Ecco. Ed ecco che il mio capolavoro rosa è finito. Ed è così morbido. Che bello. Ancora un po' qua. Sì. Ottimo. E qua. Sì. Amichetto mio, vieni qui. Bellissimo. E aggiungiamo un po' di luce. Una striscia al led. Ecco. Così. Sì. Ottimo risultato. Che bello. Alex, non ho l'obiezione per battermi. Eh? Cos'è? Tutta rosa. E cosa sarà? Ah. Io ho una catena. E il mio volante sarà bellissimo. Perché sarà di ferro. E non so, c'è morbido. Bisogna solo aspettare che la colla si asciughi. Ok. Perfetto. Mi è rimasto della colla. Quindi ne aggiungo un po' qua. Perfetto. Il teschio avrà un aspetto molto pericoloso. Sì. L'avevo detto. Che forte. Cos'altro? Un po' di teschi qui. Bene. Eh. Giusto. Un altro dettaglio. Ah ah. E ora mi volano. Aspetta. In giro. La mia macchina è la migliore. Lo so. Vediamo a cosa si inventa vita. Che bello. Cos'è? Alex. Ma sta compiando le mie idee? Hai adoperato l'auto con i teschi? Gelosa. No. Nella mia macchina c'è abbastanza spazio per tutti. Anche per il mio amato cane. Vieni qui. Bravo tesoro mio. Comportaci bene. Guarda la mia macchina è qui. Dai vieni qui tesoro. Ah. Cosa che inco. Il mio amico non può star là. Ecco. Devo decorare tutto così. Ah. Così veloce. Mi avete dato molto. E ora faccio tutto io. Ci metto qui un litino bello e comodo. Ed è perfetto. Guarda quanto è carino. Perfetto. Affrontiamoci. Ti piace? Ma vedo che ti piace. Dai rimuota qui. Ah. Dopotutto io ho una macchina fantastica. È il momento di scadare qualche selfie nella macchina più bella del mondo. Che bel uomo che sono. Ah. Saprò come lasciare l'istimale in questo video. Cosa c'è di interessante qui? Ah. Cosa sì. Che sicurezza. Permettetemi. Ah. Vieni subito. Mi chiedo cosa c'è là. Soldi? Oh no. Un gano. Un gano. Slamettoso. Che inco. Ma corri. Affreddosi. Cos'è questo? Un gano e cosa? Cosa sta succedendo? Spero che non sia giusto nulla. Di male. No. Oh. No. La mia borsa. No. Ma perché? La borsa. Bravo. Vita. Vita. Ma questo non è tuo. Oh. La mia borsa. Grazie. Ah. Non c'è di che. Ah. Sarò meglio e meglio la mia roba. Spero che i ladri non vengano più. Che gioco fantastico. È impossibile staccarsi. Sì. Beh. Ma cosa? Si è scaricato. E adesso cosa faccio? Ho un'idea. So cosa devo fare. Aspetto un attimo. Ok. Qui. Bene. Bene. Metto la tv qua. Sì. È ottima. E adesso la Playstation. Perfetto. Metterò tutto quanto qui dentro. Cosa abbiamo altro qui? Bello. Così mi metto comodo. E posso giocare tranquillamente. Andiamo. Wow. Cos'è? Ciao fratello. Ciao tazzi. Eh ragazzi. Venite anche voi. È così divertente. Adoro. È troppo bello. Mi piace. Che bellezza. Che succede lì? Stanno giocando. Ci stanno divertendo. È senza di me. Va bene. Allora. Li farò vedere io. Ok. Metto la scatola qui. Apro il bagaglio. Ok. E metto qui tutta questa roba. Perfetto. Qui la colonna. E metto un altro accanto. Ecco fatto. È bellissimo. È così. La palla di discoteca. Semplicemente fantastico. E aggiungo le luci. Le appenderò ovunque. Ah sì. Così. Uh. Perfetto. Ok. E adesso è musica. Guardate quanto mi sta divertendo. Sbrigatevi. Partecipate anche voi. Eh. Cos'è? Andiamo lì? Sì. Andiamo con voi. E io. I miei amici. Ciao. Dio ricavamoci insieme. Ma perché Alex non si diverte con noi? Gioca da solo. È colpa mia. Vabbè. Dai su. Alex. Vuoi venire? Uh. Sì. Ma ho un altro suggerimento. Vuoi giocare con me? Sì. Attenzione. Chi non perde mai? Adesso giocheremo insieme. È divertente. Mi piace. Grazie per avermi invitato. Non c'è di che. Buongiorno a tutti. Anche a te e Candy. Ciao. Ciao Susi. Dove siamo? Ma sei costa per accadere? No. Aiuto. Smettetela di urlare. Vi sta aspettando una sfida molto bella e divertente. Tutto ciò che dovete fare è premere i pulsanti. E per caso ricorderai di perdere ogni sorta di cosa bella o meno bella. Ad esempio, non tutti vogliono essere, sì, prese dalle uova. Un ombrallo sarebbe sicuramente usile per una cosa del genere. Cosa c'è dietro al pulsante rosso? Non è so meglio. Una chiave d'oro. Uh. Corriando. Entrariamente tanti soldi. Voi ragazze? Avete capito le regole? Allora andiamo. Mi è piaciuto molto l'effetto del pulsante rosso. Penso che lo... Non lo verò. Oh Susi, ho una brutta notizia per te. Cioè, formaggio, un po' solente che ti aspetta dietro a questo pulsante. Mi dispiace. No, è disgustoso. Fa molto male. Sfortunata. Vediamo se sei infortunata tu. Un pessimo pressimento, vediamo. Oh, beh, sì, sei infortunata. Ti aspetto un sacco di panna. Non hai idea di quanto ce ne sarà? Wow, quanta la panna. Non è mai troppa, però. Ora è il momento di aggiungere delle zuccherine colorate e deliziosi. Candy, sei pronta? Allora prendi. Oh mio zio, non pensavo di poter essere così infortunata. E non è tutto. Aspetta. Perché è rimasta la ciliegina da aggiungere alla torta? Cosa? È davvero bella. Sono la torta. Susi, tocca a te premere il pulsante. Oh, oh, sei sfortunata. Questa volta hai preso un bel po' di scherapaggi del Madden's Car. No, ma perché? È ingiusto. No, ma cosa ci darà ora? Coca-Cola, forte. Beh, gli scherapaggi. Non li avrai. E uno della Coca-Cola. Sì, questa è quella che io chiamo vita. Sarà ancora più bella se riuscirò a prendere tutta la Coca-Cola in questo enorme bicchiere. Eh, Susi, dovresti vedersi. Sei tutta bagnata. E non hai bevuto la propria Coca-Cola? Sciacchizzo, vedi? Ma cos'ha questo? No, 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 no. Pensi di aver preso solamente Coca-Cola? No. Ecco. Avrai anche vento. Se così avrai una fontana di Coca-Cola. Ah, è una stessa volta, una fontana di genere eccessiva, dovremmo fermarla. Ecco, così. Kenzie, dai. Uh, sono molto felice per te, perché puoi mangiare questa torta deliziosa e unica. L'unica cosa che devi sapere è piuttosto pesante. Sì, la torta è più grande della tua testa. Eh, ma cosa c'è di divertente? Eh, è davvero bello. Quindi è molto gostosa. L'unica cosa che rimanda è una torta è una candela. Ah, cosa terribile fuori, aiuto. Ma cosa sta succedendo là fuori? Eh, sì, Kenzie è davvero incazzivacqua. Dobbiamo eliminare subito questo equivoco e so che come farlo. Il pompiere Fit vi può aiutare. Fit, aiuto. Spegni. Nessun problema. Ben fatto. Grazie per il tuo aiuto. Sì, grazie. Facciamo molto caldo qui. Adesso sta meglio. Chi sarà il primo? Ken do Susie. Susie, vai tu per prima. Eh, non so cosa scegliere. Forse è da rosso. Non deludermi. Ottima scelta. Ma ecco il problema. Non ho avuto il tempo di fare il popcorn. Quindi Susie dovrà coparsi dei chicchi. Oh no! Sono quasi duri! Negli dei genitori riescono a sopportarli. Però... Aspetta. Guardate i miei genitori riescono a sopportarli. Guardate i miei genitori. Adoro. Ma perché fa così tanto caldo? Sto già sudando. Oh no! Wow! Non hai capito! Fantastico! Oh! Anch'io ne sto prendendo un po'. Ed è davvero bello. È davvero bello. E' buonissimo! Susie, ma cosa stai facendo? Perché tutto questo popcorn? Questo è troppo nostro! No! Oh no! Ma spazzo per oggi! Spegni! Pegli! Salvami! Per paura! Crucerò! Spero che almeno il pulsante mi salvi. Vediamo Oh, Suse, è ora che tutti io ne rinfrascata Ah, che male, ma grazie per il ghiaccio Finalmente non fa più così caldo Così potrò mangiare questi deliziosi popconi Che oggi tocca a te premere il pulsante Aspetta Credo di sapere come distrarsi Sveglia, veloce Oh, fa male Scusa, perché urli? Vabbè, pulsante verde No, sono con loro Oggi gli scarafaggi, no, per favore E io li adoro Soprattutto quando cadono in testa a qualcuno Allora, amici, siete pronti a diventare amici Allora è arrivato il vostro momento Basta, 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 basta Per favore No, ce ne sono con le danze Cosa vuoi fare? No, 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 no Aiuto Toglite la mia danza Fatemi uscire Sembra che la scarafaggi piace Dalle tue famiglie Vabbè, dai, aspetta No, deve tornare Capito? Ci sta bene Ah, ciao Anche io sono riuscita a prendere un po' Oh, no, no Che male Eh Cosa? Adesso Te prendi Ho credo che il mio problema Sia per essere risolto È tempo di E si decidi Quindi non puoi respirare Questa roba è mortale Quindi per favore Se ne maschero Anzi Naturalmente Tutti dovrebbero sapere Che non bisogna La larga Per lei Per gli insetti In nessun caso Bene Scarafaggi Siete pronti Sparite Fatto Ok Suzy Sta per premere Il pulsante Vabbè Non sono riuscita Ad avere la fama Allora Posso avere qualcosa di buono? Perché no Patatine Per la piccola È tutto qui? Non ci posso credere Non ho mai visto Delle patatine così piccole Ma comunque sono buone Ma dov'è la salsa? Poglio la salsa Ci sarà un sacco di salsa E devo Posso trovare così tanto Ma cosa ne farò? È disgustoso Almeno le patatine? Almeno le patatine erano buone Ma così Che schifo Ma Aspetta Non c'è così Ma Candy Cosa mi stai guardando? Credo che anche per me sia arrivato il momento Di cliccare Oh Finalmente Qualcuno Si è aggiunto I comprami È davvero interessante Candy C'è una valigia Piedi I soldi Chi ti aspetta? Anch'io avrei bisogno Sì Di qualche spicciola Prendi Che bello Sono ricca Finalmente Oh Really Mi dà un po' Sì Un po' Un po' Un po' Ma non è tutto Il gran premio Deve ancora arrivare Ah Che male Ma cosa? Ma cosa non riuscirò ad uscire Nella gabbia? Bingo Viva la libertà Che bello Vado Un giorno Riuscirò anch'io L'assenza Un giorno Grazie a tutti Per averci seguito E noi ragazze È ora di iniziare la sfida E io Premo per prima Adoro il blu Quindi spero che questo amore Non mi deluda Mi chieda Cosa avrò? Ok Miranda Senza offesa Marco L'ora blu Ti ha deluso O alcuni dei cibi Di questo ecchio Era buono Ma ora Non sono sicura Ma spero che tu Trovo qualcosa di buono Cosa è questo? Ma Non si possono giuttare Di rifiuti Dove c'è una persona? Oh Che schifo Non si fa così Per la nostra ecola Sì Ma che puzza Comunque Te l'azioni Emma Hai vinto il jackpot Che ricca che sono Sarà la più bella Emma Sono così felice Per te Guarda Sono ricchissima Sono molto fortunata Quanti soldi Mi piace Ma questa puzza dove viene? Ma cosa? Sei lì nella spasatura? Sì ma cosa devo fare? Io ho trovato Un po' di Hick tack E poi Guarda cosa Assomiglia A un Microfono Sì Comunque Dai Devo spruzzare un po' Del Diodorante Perché questo odore orribile Si diffonde dappertutto Questa è la mia scatola Il secondo round Comunque spero di essere fortunata Sì Anche tu sarai fortunata Cosa? Ma Così non sono buone? Ma Chi ha detto che Così? Ecco Le salticce Puoi preparare Un vero doc Sì Farò un pranzo Buonissimo E non è tutto Cos'è un doc Senza la salsa? Ho Il ketchup E la senepe Ma perché Lo stai versando Sugli me? Ma Comunque Posso mettere L'alba lì E così Viene fuori un buonissimo doc Grazie mille Sono così felice Mi piace Miranda Sono felice per te Tocca ad Emma Sì Devo premere il giallo Ma se mi le ho molto al sole Non la dovevi scegliere Perché Ecco Ti tocca Mangiare il pesce Puczolente Un pesce? Non è possibile Ma se ne arriveranno sicuramente altri Per fortuna che ho portato L'ombrello Forse Emma non puzzerà Ma la sua scatola Sì E cosa ci devo fare? Star qui? E marcire? No Ho un regalo per te Un nuovo amico Si chiama Fluff Spero che voi due andiate d'accordo Vuole mangiarmi Lasciami st'ora Eh sì È un po' Rabbioso Ma Farete amicizie Come stai Miranda? Ottimo Ecco C'è una doc anche per lei Grazie mille È molto buono Ho capito a cosa serve il gatto Mangerà tutto il pesce Lui mangia il pesce E io lo doc E siamo benvenuti